Otto condanne, di cui cinque all'ergastolo e una soluzione, sono state decise dalla Corte d'Assise di Caltanissetta al termine del processo per l'inchiesta antimafia del reddito. Al centro del processo sei omicidi e tre tentati omicidi commessi a Riesi nel corso della guerra di mafia a Riesina di fine anni 90, tra Cosa Nostra e Stidda. I giudici hanno inflitto l'ergastolo ai boss Pino Cammarata, 69 anni, e Francesco Cammarata, 51 anni, oltre che a Franco Bellia, 51 anni, Gaetano Cammarata, 48 anni, e a Salvatore Siciliano, Mazzarinese, di 58 anni. La Corte ha inoltre condannato a 18 anni il boss Vincenzo Cammarata, 68 anni, e inflitto 16 anni ciascuno a Orazio Buonprincipio, 54 anni, e a Giovanni Tarara, 48 anni. Assolto dall'accusa di avere preso parte all'omicidio di Gaetano Carmelo Pirrello, il Riesino Salvatore Salamone, 85 anni, mentre il boss Vincenzo Cammarata è stato assolto per l'omicidio di Angelo Lauria. Gli agguati coprono un arco di tempo compreso tra il 1992 e il 1998, ma in alcuni casi la guerra tra cosche non era stato l'unico movente a scatenare la violenza dei soldati di Cosa Nostra, come nel caso dell'omicidio di Pino Ferraro, ucciso per avere offerto un passaggio alla moglie del boss Vincenzo Cammarata in un giorno di pioggia, una gentilezza che agli occhi dei mafiosi era diventata un'offesa all'onore del boss. Andrea Pirrello venne invece ucciso perché al momento dell'agguato si trovava in auto con il padre Salvatore, vittima designata che invece scampò all'attentato. Michele Fantauzza fu invece torturato e poi strangolato perché i killer della famiglia Cammarata ritenevano che fosse a conoscenza del nascondito del capo mafia arrivare Calogero Riggio, del quale era amico. Gli altri omicidi sono quelli di Angelo Laurie e Ghetano Carmero Pirrello, a cui si aggiungono i tentati omicidi di Salvatore Pirrello, Tullio Lanza e Salvatore Pasqualino.